Mira a debellare il fenomeno della sosta selvagge degli scuteristi disciplinati, la scelta dell'amministrazione comunale di Salerno di dotare di videosorveglianza altre aree della città che diventano così zone a traffico limitato ZTL. Al termine degli ultimi accorgimenti tecnici verranno attivati nuovi varchi. Le telecamere fotograferanno gli indisciplinati ai quali arriverà senza possibilità di sfuggire direttamente la sanzione anticipata dall'assessore alla mobilità De Maio. La notizia oggi è stata commentata anche dal sindaco Vincenzo Napoli che si è detto ottimista su un'altra questione al vaglio dell'assessore alla mobilità, la soluzione dell'avvertenza con i vigili urbani. Domani ci sarà un incontro per trovare un'intesa e scongiurare lo stato di agitazione anche grazie all'attivazione di una procedura di concorso. L'assessore De Maio ha provveduto a immaginare dei nuovi varchi di ZTL, zona traffico limitato, per disciplinare gli accessi nel centro storico cittadino che molte volte violano la compostezza dei comportamenti. Noi abbiamo per esempio la via Conforti per intenderci Banca d'Italia che divenne un luogo di violazioni persistenti e continue della sosta e del transito nel corso che sapete non è transitabile. Così come abbiamo il malvezzo da parte di alcuni di considerare il corso come un luogo di transito e così l'ingresso oltre che della via Conforti avviene anche dal corso altezza Brancaccio per intenderci. Lì abbiamo posizionato un'altra telecamera, sono delle telecamere con riconoscimento delle targhe, cioè la sanzione arriva direttamente senza passare dal via, non c'è l'intervento umano, è automatico. L'assessore De Maio in quest'ora è al lavoro anche per trovare un'intesa con i vigili urbani, domani c'è una riunione, l'assessore si è detto ottimista, c'è all'orizzonte anche un nuovo concorso? Sì, l'assessore De Maio sta compiendo questo suo compito e questo suo lavoro compilizia e credo che si possa immaginare di risolvere, contribuire a risolvere qualche problematica. Noi siamo in deficit di uomini, come lei sa, abbiamo delle complessità strutturali che intanto cerchiamo di dipanare con qualche concorso, con qualche mobilità che pure c'è stata nei mesi recenti, ma con un ragionamento complessivo sull'immagine della città del traffico che è all'attenzione degli uffici.